buongiorno e oggi vediamo alcune news introdotte da pochissimo tempo in virtual meeting e learning in particolare su richiesta sempre da parte dei nostri clienti abbiamo implementato maggiormente la tracciabilità dei video per quello che quando voi caricate i video nell'area video lezioni oggi il sistema cosa può darvi come dato di ritorno oggi avrete la tracciabilità del video in tempo reale dell'utente cioè nel player non vedrete più la barra di scorrimento per quello il corsista non può andare avanti nel video ma deve frequentare vedere tutto il video per poter poi ritornare indietro nella registrazione e questo cosa vi comporta che se l'utente blocca il video eccetera non viene conteggiato la visualizzazione del video quello importante anche questo come strumento di tracciabilità nello stesso tempo se inserirete come requisito la quello che noi definiamo bloccante vuol dire che l'utente deve in questo caso vedere tutto il video in questo caso noi calcoliamo il 90 per cento ipotizzato un'ora ovviamente deve fare i suoi 50 minuti di visualizzazione del video avrete questo dato aggiuntivo sul sui video che andiamo a caricare ottimo strumento per analisi di chi sta guardando i vostri video ma anche per una serie di dati da dare ovviamente di report agli enti competenti abbiamo anche deciso di fare un'altra analisi di tracciabilità non solo sui video caricati nell'area video lezione ma anche sui video caricati nell'area contenuti extra per quello oggi anche i video che vengono caricati per esempio da youtube noi potremmo darvi come dato esattamente la data e l'ora di la data e ora di apertura di quella di quel contenuto extra altro elemento che permette un'analisi più completa della tracciabilità del vostro del vostro discente all'interno della piattaforma e learning queste sono le novità introdotte in questa settimana in virtual meeting e learning a breve poi ovviamente tutti questi dati li troverete nell'area report come area segreteria oggi si sta facendo questa migrazione cioè l'utente lo stiamo già tracciando e a breve avrete tutto nell'area report come dato da utilizzare per adesso grazie questa news e per chi vuole provare anche la videoconference o il sistema live che può essere integrato in virtual meeting FAD può andare sul nostro sito provare la demo e cominciare a fare anche business con la formazione live grazie a voi e buona giornata